Mi chiamo Marco Rossi, sono responsabile di Ethanomics Italia. Da più di 15 anni studio soluzioni per il raggiungimento di un efficientamento energetico diffuso. In questo video presento i contenuti del corso online dedicato alle comunità energetiche che ha l'obiettivo di informare su queste nuove configurazioni che permettono la condivisione dell'energia autoprodotta. Il corso ha una durata di circa 45 minuti e rivolto a progettisti, EGE ed in generale a chi studia, come me, soluzioni nel settore rinnovabili ed efficienza energetica. Il quadro normativo relativo alle comunità energetiche non è nuovo, ma il recente Decreto Legge 199 2021 ha introdotto importanti novità che possono abbattere gli ostacoli che finora si sono incontrati nella diffusione delle configurazioni. Al termine del corso spazio alle vostre domande e approfondimenti. Clicca sul link e iscriviti subito, ti aspettiamo!